3x3, 9, più tre quarti, 9 più tre quarti, 9 più tre quarti, 9 tre quarti... Ah, che ricordi! E se andassi ad Hogwarts? Potrei diventare il più grande mago di tutti i tempi. Non serpeverde, non serpeverde! Comprerei una Nimbus 2000, anche se la pandarella è sempre il suo fascino. Ci sono! Farò la pandarella 2000 a benzina. Hai voglia di volare? E magari comprerei un gufo. Potrei aprirmi un negozio di bacchette a Diagon Alley. Piacere, Harry. Io sono Daniele. Mio padre era un babbano, mia madre una strega. E poi Hagrid, che verrebbe solo al mio compleanno con la sua torta fatta in casa, che solo a guardarlo mi viene il pallum proprio come la zia Concette. Finalmente potrei chiedere a Piton di cantarmi Il triangolo no, non l'avevo considerato. E se... e se il libro di matematica fosse un Horcrux? Forse dovrei chiuderlo. Sì! Basta! Io smetto di studiare! Voglio diventare un matto! Daniele! Stai studiando per l'examen? Stai dovendo controllare!